Dopo lo stop dell'anno scorso per motivi organizzativi torna quest'anno puntuale a Pescara il trofeo Matteotti che festeggia la 68esima edizione. La presentazione dell'evento fra i più longevi nel panorama italiano è avvenuta questa mattina all'Aurum alla presenza di tanti appassionati. Il patron della manifestazione Renato Ricci ha ricordato anche la ricorrenza dei 70 anni dalla nascita dell'Unione Ciclistica Fernando Perna. Nel 70 anni 1945 ci sono state persone grossissimi organizzatori come Fulvio Perna che ha saputo creare questa creatura e che per 50 anni l'ha portato avanti. Sicuramente è una cosa molto importante perché è stato veramente un simbolo per Pescara e per l'Abruzzo a livello agonistico il ciclismo. Un'edizione importante però diceva prima peccato non aver ospitato il campionato italiano qui a Pescara. Sì ho detto una parola molto felice così che è stato scippato. In effetti è stato scippato del campionato italiano perché avevamo tutti a favore perché il circuito di Pescara per me è il più bello d'Italia se non di Europa. Ma i poteri forti del Piemonte e Lombardia messi insieme perché non si sono accontentati né dell'Expo né di Torino 2015 città dello sport. E quindi diciamo che per me hanno infangato il ricordo di Giacomo Matteotti quando loro per tanti anni si sono creati politici con quel nome. E mi è dispiaciuto un po' perché potevano anche lasciare a Pescara festeggiare i 70 anni il trofeo Matteotti. Una 68esima edizione con tanti nomi importanti del ciclismo nazionale ed internazionale con la novità della presenza della nazionale italiana di ciclismo. Sì questo è un regalo che Davide Cassani ci ha dato e questo sicuramente ci rende anche orgogliosi.